E tra i luoghi delle giornate fai d'autunno c'è anche la torre Piccolomini di Pescina. Ne parliamo, anzi ne parlerà tra brevissimo Luca Pompei che è collegato con noi. Buon pomeriggio Luca, ti saluto subito perché questa torre è stata completamente restaurata, vero Luca? Sì, noi aggiungiamo un quarto luogo da visitare. Sono tutti e 36 assolutamente da visitare in questo splendido weekend dedicato alle giornate del fai. Ma su Pescina si apre un discorso particolare perché l'amministrazione comunale con il sindaco Mirko Zauri ha organizzato per l'occasione un evento ad hoc. Intanto il coinvolgimento di tutti gli studenti dell'Istituto Benetto Croce di Pescina che faranno da vere e proprie guide nei luoghi più suggestivi della città di Pescina. Ma poi alle 10 una conferenza stampa nella quale verranno illustrati i dettagli di quello che è stato un vero e proprio riconoscimento da parte degli ordini degli architetti in collaborazione con l'Anci per il progetto dell'architetto Leon Bruni. Un progetto di riqualificazione della torre Piccolomini, progetto finanziato dai fondi Master Plan che dunque vede rifiorire in qualche modo questo luogo così suggestivo a Pescina, un luogo estremamente identitario anche per quel che riguarda il territorio. Bene, questo progetto dell'architetto Leon Bruni premiato appunto dall'Ordine degli Architetti e dall'Anci verrà in qualche modo illustrato anche nel dettaglio durante questa conferenza stampa e poi al termine della conferenza stampa una grande manifestazione con un lungo tricolore che sarà calato dalla torre così a rendere ancora più suggestivo lo scenario. Quindi tra tutti coloro che vorranno visitare i luoghi più suggestivi di Abruzzo segnaliamo questo evento in particolare a Pescina. A te Paolo.